Arroba! Diamo chi deve essere a casa? Diccio 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 E' un momento Con paparco sto oltre St' oltre, sto oltre con qualche altro oltre Poi neanche io, neanche io Non io, non io, non io, son da la tua e il genio è proprio il pirone al vento e quattro la lotta è il funerale del Gigi Scatuleta e il quarantodù ha il giorno a spiscare e resta spiata l'asso del treno a cinquanto quattro il mondo è l'apparecchio del pirù mammo, mammo vado che al più le qualche nutre andiamo per mangiare che là, lì, no, il Perù è stessa ha il secondo la disgrazia mammo, mammo ma è possibile che te decido il numero di dire un po' dalle disgrazie ora è proprio mio rompecine l'ultanto ho tre presenti nella frattura della gambo del Nando Pistolo che è questa che mi manda a rubare no è perché che lo lì sarebbe la mia una disgrazia ma no che lo lì è una fintina invece perché io alla desmenterate assai la nostra pianta del nord ha rubato il pom con lo schifo che che il rompe che padella del sommiur della comando che roba può migliorare di me E che almeno grichetta domandame il nome no perché che grichetta Kath che aveva rispondito, che aveva rispondito, che ne ha comprati il frattorone, che la pianto lì, che ha detto che la pianto lì, la sacra inviolabile, in che maniera lì, sacra inviolabile, perché l'ha impiantato sotto il padre, al Piero Baccio, al decreto che non ha chiesto pure la pina, certo che, certo che il papà mi ha fatto un bel scherze, chissà tu non è che è andata a sconderli i palanchi che ha inserito la sisa, certo che di dire invece proprio i tanti nei quei palanchi lì, penso che con quei palanchi lì, ma che io compro a me questo paese, voi fa a me, perché le domandele che vede, a se mi fa un margine di e non vede che troppo con mio padre. Con il mio padre non ho. Con il mio padre, con il mio padre! E non ho? E tu sola! E almeno le quadre. Con il mio padre? Dopo ma dove me rendo? Ma dove me rendo? Ma dove me rendo? Ma dove? Alla bene, poi sono i biscotti che buccia sono puliti, ma vedi? E tu sola? Con il mio padre? Non so, non ho fatto. cerco un mamma che a tutti intrattenuti il papà al giro se ne ha graffo mi ha dato forte diventiamo e manco a tutti gli mette in linea perché dice che se no tu ci vorrei che sai che mi resta la vita e la pochiera pure che gli amici e parecini è schiava del carro e se ti hanno credato a scondire le palanque? bisogna poter dire che ero un grande news ne? penso che per spendere con il itinerario anche l'ascri che gli è bruciato no 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 come ha visto? aspetta un momento scremato scremato perché in che? per spendere il mondo al giugno al anno mi ha capito? e lei mi metto a rispetto alla volontà mi ha capito? e lei mi metto a rispetto alle gambe mi ha capito? e il film del film una bella chiamata e anche io Piero faccio che si non so e lei mi ha capito? I'amico un po' né? Ma ora, qua ora, qua ora, qua ora, qua ora Vai la palapiti? A palapiti? Giorna, l'apapiti? Mati, a come ti sei parlone non trevo E non trevo a come ti sei Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 amici a tutti. Grazie a tutti. Nelle mie sedute ho parlato con Napoleone dopo la battaglia di Watterdon. Ho richiamato il fantasma di Garibaldi dopo la sua partenza di 1100. Ma pensare mio non è che anche in tempina siamo con la Milena. Ma come pensare proprio chi nasce con la Topolino? E dopo che è andato a Marsala? No, no, al Mettiero non ho appena aggrappato. Che è da Marsala? Poi devi andare a Marsala? Ho scala un biciline, Marsala, togata il Bibianco, togata il Bibianco il biscotto e il funccio a coppito. Ma Marsala ho chichite sempre da gioco. Ah! E' giocato l'anima di Giuliano l'apostata! Oh, padre, ma dispiace, capo l'improvedere l'apostata. Allora, guardi, è me fiero da Irapolini. Oh, alma te che dà la foto delle nonne, per n'apparare i piccoli molti andevoli, per l'apostata la salvo, ti ha capito? Se siete d'accordo, possiamo incominciare. Sì. Tutto pronto, signorina? Tutto pronto, signorina. Quando volete, possiamo incominciare. Sì. Il tramonto ci copre col suo triste sudario. Le tenebre ci stanno abbracciando. La notte ci avvolge col suo nero montello. E l'ora degli spiriti si avvicina. E, come questo che mi fa un favore, eh? E noi mi ha rappresentante la buona morta! Ora ascoltate e seguite alla lettera quello che io vi dirò, ponete una candela sul tavolo e accendetela. Qui inneso? Spegnete le luci. Prendete posto attorno al tavolo. 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 Io? Che cosa c'è il conto,на su io non sai. «Sai il conto che ne viene dal cuore... stuff back?». Oh, dai, dai, le vi faccio il bebgo... Per dal cuore. Cosa? Eeeeee! Ah, ma che siete il bunne Piero? Ah, perché dove sono bene le mie che stanno sganando te. Piero siete sulla terra e Piero sono anche lì. Ah, mi va bene. Ascolta la tua Teresa. Che credo che la terra taglie il sede? Quanto da serecchè ha? Ah, quindi la Teresa io non vai a vedere. E non credo neanche mai con sede. Ma, ma Piero, ma ricorda il mio della tua Teresa, del tuo vecchio, della tua figlia. Ah, niente che la c'è lì non vuoi sentire parlare. Ah, meglio. E' il postura, e' il postura in realtà. E' che a tra le via c'è da che ti ha attracca lì. Parla. Dimmi, creatura dell'aldilà, tu sei Piero? Eh, certo che so Piero. Ma, se no, se no se ne svegli neanche di chi è. Sei veramente il Piero. Il Piero Baccio. Piero Baccio? No. Ma, a volte che cos'è che sbaglio eh. E' so Piero. Ma, ma alter Piero. Ma allora, non sei il Piero Baccio. Non c'è, non c'è, non c'è ma su ma è il parambolino. Può dire che è me, sono alter Piero. Ma, perché sei venuto tu allora? Oh, e lui mi dice che è delle parti che è incercato Piero. E' sicuro il suo medico, che è venuto a capire. E' un'altra cosa. Eh, eh, e' mi sono i piedi. Oh, a sbaglio? A sbaglio mi fa poter eh. Poter viene chiamato Piero... Piero Baccio? Eh, è mio. E' mio Piero Baccio, sì. Ma tu? Eh. Dove abitavi in vita? Ah, proprio, proprio in fondo, in fondo al paese con la sua, sai. Eh, di che sei morto? Ah, questo sono mio. Ad un tour, mi dì che crepai di salute. Nel soviesce di salute si vuoi crepare. Eh, so appena che me so crepato il tu. Eh, e che la cicerà, e che la cicerà della mia forno, che la mangi la dica me, se ne ne ha pulisata per via del via del via, me che appena la grapo. Ma scusate, quindi sei a una ruota o a tutta po'? Piero, eh, scusaci se abbiamo per errore invocato la tua presenza. La prossima volta invocheremo l'entità del Piero Baccio. Tu, Piero non so chi, sei libero. Amici, credo che abbiamo sbagliato l'entità. Bisognerà rimandare tutto a un'altra sera. Accendete pure la luce e spegnete la candela. La prossima volta, ci troviamo, andrà sicuramente meglio. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ci vedremo più avanti. Buonanotte. 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 Allora, stai spiriti, Beppo! Stai ero che non sono in Italia che hai cagliariato! Però, ma si che non è mai credibile che le loro peggie, il giro deve funzionare! Allora, che si è il primo, mamma, io trovo la prima ero che non trova... Certo che la prima ero è la che deve scacchia qua, ma... Ma la roba cambia la risorsa anche io, un persino! Bisogna cosa, che è la presenza lì della prima ero! E stai, ha detto, facciamo anche il loro bacio e il mio occhio ero quasi a si streglie! Tiè, ma, me la andò a dormer perché... Tu, a mattino dell'acqua, dà la un'acqua! Me la dà con l'acqua e il nostro non lo mi ha dis... Ho il fame! Eh, non farò! Oddio, non ho colato però! Non ho, non ho... Non ho, non ho! Aiuto, aiuto, dame! Non ho, non ho! Ma non ho, non ho l'acqua! E che fai qui? Che fai stai a lavorare! E che fai stai a lavorare? Ma non ho, non ho l'acqua! Ma che fai, non ho l'acqua! Ma che fai, non ho, non ho l'acqua! Ma, non ho, non ho. Ma... Ma che credo è niente da sparire? Da parte? Per me? Non c'è mai più, ma non c'è mai proprio la tenta via. E cosa speri? A chi a parte? Eh, chi a parte? Eh, che... Dicono che... Dicono che io mi chiede a dover tentare. Eh, perché? Perché io mi chiede a dover tentare? Perché? Perché... 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 Ah, sono... Poi ti dimentico a dover tentare? Sì. Ma... Ah, ma, ma, ma... Ah, ma, ma, ma... Il cammino mio fa... A fare tutto nello! Ma... Sì, ma, ma... Da fare tutto nozzo nello! E, va come te lo so, nello! Ma sono o... Alluno... Dicono che... Che è nessuno... E qua è nessuno la taglia di discesa... perché.. Ma tu loTRÈ non vedeva fare? Quanto è più che devo fare... Ma è detto anche il spirito... Dari ne sei? Ma è che viene fatica non sa lì da neacco. Ah... Insomma, ha fatto, ha fatto le notte, ecco, ha fatto lei che... Che? Dai, che no? Ma ha riporto più la strada giurna a te. Ma un po' a me? Ma diche, allora mi resta che in Danda la vostra capa te lo hai da te? Perché te lo hai da no? Ho perciuto l'amor, sì. E Danda fa come per fare Danda via? Eh, guarda. Com'oro? Com'oro la risponde fa? Ma ecco, ecco, ecco. Ecco, quando, quando venerà il vino anche la casa qui? Piena l'uno, un cattore lo frea, l'animo della persona, eh. Ma prima di uno, ancora di... L'amore su cosa fa, eh. Come, come? Con la città? Ma una via è paraciasi a un po' a me. Oggi, quando venerà il vino anche la casa qui? Con la città? Con la città? Con il vino dell'umantario. Il vino dell'umantario. E l'unico che correggerà, non potete, che l'ha perso dentro. Ma prima, la mista, se lo rimane. Vieni, 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 va. Osti. Ti la fa a spiegare. Cioè, un città di dolmano, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Ti ha l'olanda, eh. Dai, sui mattini. Ma... Ma provi anche la cattè. Se si provi anche la casa, che se? E mi occupo giù del paese, magari. E guardi che... C'è la maglia delle perfane fuori. No, che qua, che la respiro, la madre, tra un mullimento. Che, oh, più no, che la gabbè, tra un mullimento. No, poi anche, magari, che anche... E girò in Ciappomosche, che aveva dato il cattù cerebrale. E io le chiesto. E il cattù cerebrale. E se? Vieni, ti spetta, te ci dici, che è un vero del momento roterle. Eh, a io me. Va bene, signor, che ditte? Se no, che è niente a fare? Te lo dico. Me darò via, quando stai che lavorerai, anche la casa qui. Punto e basta. Allora, te che anche che ero è capitante. A meno di che l'arresta pidergo, che lo spira su tutta, spiritosa è stai. Certo che almeno che, metto la pida ciamare che ero faccio. Cioè, io lui come chiedo, non è pida ciamare che ero faccio. Ah? La te però, sicuro. Eh? E anche se l'avessi chiamare, a... Pidio di Regna, che gli chiede, no? Pidio di Regna. Perché, perché l'hai impegnato. l'hai impegnato, sì. Deve... Deve a scrivere con l'angelo in maniera di tenere un po' a massimo e spiegare il gestito del peggio. Ma dove è questo po' è? Ma, scusami, allora perché che era il paradiso? Certo, certo che era il paradiso. Sì, ma... E se ne so, anche me, anche me sono un paradiso. Anche a fare pure anche il purgatorio. Ma dopo è... che è stato il condono e il maggiore da fuori. No, no, no. Il condono, no? Ma dopo è... Eh, 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 poi non ha decidito e fa. Perché io non... Hai speso del paradiso? Per prima cosa, sono del tuo il vender, tu hai del... come storia dei cardinali. Eh? E dopo vender, tu hai cianelli dei vescovi. Te, bu. Che ne hai proprio taglia. Però... Ascultate, ma più la urlè? Che a te ne pensavo, signor? Ah, signor? No, 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 no. Che... Che la fa una discussione, no? Perché la capo vuole essere un po' che da città, no? Ma no, signor, ma lui, al calma puse, no? Signor, al calma puse. Ma tu, ma lui, lui conosco il piede, no? Certo, certo che il conosco. Eh, il conosco. Ah, sì? Quello di che sa nienta proprio i tu, a dici? Tu, e tu? Sì, sì. Ma, che al mai parlatele? Che le parlate, che è che è stata scusa. No, te ne, te ne ne me l'ha parlata. Eh? Sì, sì. Ma, che al mai dite tu che ce l'ha scondite? Sì, sì, ma anche tu le ha scondite, sì. Eh, allora, lui, l'altro che ce l'ha scondite? Certo, che me l'ha dite, non ci so che tu le ha scondite. Sì, sì. Ora, l'è dichia, no. Ma, sì, no, vede via. Vede via. Ma, l'ha sentito un po' che ce l'ha scondite? Ma, no, ti devo che ce l'ha scondite, no? Vede via. Vole, vede via. Vole, dì, ma non è preciso come me che la serò che è la casa qui. Insomma, quando da pure notare l'anima e che la fisica si anche sta in che la foca la casa qui. Eh, sì. Ma, escute, è venuta, è in che faresti. Sì, è che l'acqua me, magari, non fè, perché con la sola cantorum. Sì? Con la sola cantorum, no. Sì. Magari hanno appunto anche i più frescati cimitero di cimitero di cimitero, eh? Che niente fa, sicuro. Perché? Per prima roba, sì, invece le mie che devono ancora essere fatto. Sono già un paradiso. Eh, ma che è il posto? E per quanto riguarda i fiori, che penso che se no la prima volta portavo anche il plastico. Ah, bene. Eh, 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 eh. E che niente di un uccanone? Eh, 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 eh. non è spaino che la progetto bestia e che la bestia e lei non mi ha spiegato in giro per l'amante e dice mi so e giu che tu e con un'altra ma non mi fa la tradizione che la lei è una bestia che dice me ai tu Piero fa che mi riedo ai Piero e non mi fa anche il Piero e ciao dopo aver detto che il Padilla era morto un po' è un po' morto e però un su che è il tuo e il mio sacchetto è la carica e non è ma dovrebbe dire il mio sacchetto è il tuo ponte e io qualche parola e stai ancora un po' della poro è il mio sacchetto dai ponte pesco e poi e poi tu devi sentire la tua succhia trecchi dentro un pangasmon della Ostokan che il bambiabia e il bambiabia fino a questo incaparmiglia e viene anche non amarci pesco e pitini parlo tra le ote poi dopo che si mette il voto ma primo del secondo attore è il mio sacchetto e il tuo chavale preos la prima, la prima, la prima, proprio il tempo. Beppo, e questo che non ti chiede a tua madre? Ah? Stai a casa per farlo in pantalma con te e ti chiede a casa per te sul nasoletto. No, mamma, io mi chiede a casa in giù. Sì, no. Ma, che bello. Eh, allora che andrà a fare un bel funerale. Allora, facciamo adesso quattro, tre. Già parlando? Sì. Chi può essere un'unica? Che con che i nastri fiolo? Non spesso i tuoi cari figli prediletti. Sì, mi chiede un po' la mano fa lì. No. An l'oculo a metà a te, no? E se in arrivo bene ti vedete di più, no? La luce è un per ampego vero? E più. Ma non vero fotografivo. E più. E più. E più. No, fino a punteta, oggi ero un giocato male, però il tuo piatto no, ma diche, eh, c'è, oh, questo è bello, questo è bello, la casa o no, la sua madre sì, oh, ma diche la potenza, la fa parte volere, la famiglia, ma è bene che l'essere amore, non crede che abbia amore le tette, capì, oh ma adesso è legato no, insomma, argomente bisogna che se si critiche per vede iutere, ne no, e per te mio te, per te mio me, perché il te ti vuole far anche il papà, bisogna che capisci che vuole, del testile, del fare frutta, e alla fianca del, lo spettile, ne no, che è il mio problema, ma tranquillo bevo che qualcuno con me ha dato che ti farei una cosa che ti farei, che ti farei una pompa che la serve un conto mio, che ti farei una tovalina, che ti farei una bella marmo e una dedica che... di schierare il suo libro ha dedito. Ora schierai su. Allora, era buono come il pane. La sua sconsolate nel dolore e nella ricchezza la sua mamma tanto è dorata e la sua sua Con te? Con te è una bella ostrica, con te al cimitero che si muove e faccio l'idea di te. Ma che avete sentito? Sì, che avete sentito. Qui giace morta la povera Pina che all'altro mondo se n'è andata poverina per cercare i ghelli del papà. O perché? Che magari per un'ambia di... per avere quattro ghelli, per essere una bifomiglia, lascia questo, lascia quello e vi bevo già l'impia. Votre crede per essere che la cimitero di quest'uomo vivente so qua, ma anche loro, usare il mio spi. Come se ci sono nel redentone? Come se ci sono nel rischio di fare le passiose? Che schienkie, che schienkie! A seconde, a seconde, dai, tu gli fai un caffè. No, 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 no. No. Anzi, che dicherò che tutto è fresco. Che fresco? Che te l'ha fresco? No, ma sì. No. Che fresco, è adesso. Ma anche maniera, che te ne è fresco? Che è la esterna delle pignanze, che vuole, perché la stomata, che te ne ha prego l'estremo un siù. La esterna delle pignanze. E la che ci sono più suuri. Ma, no, no. Ma, no, no. Ma, no, no, no. Ma, no, 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 no. C'è la questa offazione di un'altra cosa? Che la questa è ancora casa, che aveva un po' sulla un po' la, che aveva un po' la casa? Che aveva un po' la casa? Ah? Ah? No, non, non è la palla, non è la palla. No, non è la palla. Ci sono più spazzesco, che non 250, non so se siete poche parole, ma che andiamo a cercare la mia donna insomma, per fanovero del carità cristiano di che, a un pedres mio, un po' sulla caca, un pedres mio ospitano a finire la nostra caca e la burocrazioni ma, per fatto, è per caso la che resta amore, anche a questo, anche a questo, il mio pensato ma la resta una furtina come la furtina, una furtina che ha amore no, ma no, dov'è dentro, che l'amore che l'amore, che l'amore, che l'amore, che l'amore, che l'amore contoci non ci conforti religiosi e familiari, no eh, guardo, è tutta l'idea che lì è nascato appunto ogni fa, non ha più del genere ma pensi via che il dottor, che permette di trasportarlo anche le condizioni che l'amore il tuo cuore, il tuo peccato il vero peccato, multane, eh ma che prego la busta, che ha dovremmeno non baci dal dottore, non si facci curare lo sa che lui c'è la medicina, eh veramente, è proprio il culpo del dottor che è proprio la bustina com'è? com'è la tua tua tua. ...son da tua tua, per esempio, che abbiamo preso del sang. Lui prima viita, mi dice, tu un'abbè, l'uppersta bella e fuma di cigaretti e andrea via la piazza. ...dopo l'appronte che a te la tua tua tua, per te io che è venuto, non puo la pusher. E lui mi dice, son trance? E sarò delle cigaretti? E vè per bagu? O mio, dov'è che le sigarette giù il tutto? Perché avevo mai filmato la mia vita! E la polpa veniva sul pagare delle sigarette che non ho ordinato! Ti siamo un po' bravi, perché mi fa prendere un casosto che mi forse è un po' malato? No, scusate, d'ordine, 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 che è meglio che i malati. Perché... perché è morto, eh? Come è morto? Sì, è morto. Non c'è la catarica in quattro, ma come è che stia petto in quattro? Oh, don Redento, a signor, perché sei morto? Casi l'erco nel tempo del mettero. Veramente, mi è stata fatta una mentina. E mi sono detto in quattro, e parlisto in quattro, per dire, benedetto, signor, che sei mio morto. E dice, c'è qualcosa di che io ho spiegato. E dite, signor, hai come il capito? Lui che ha capito, che non saranno sei mia morto? E, 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 e il morto? Per il morto, sarei sentito morto. E il morto? Preverendo, sarei al Piero. Al Piero. Finuti a te, bravo, signor. Penso che la spada dell'amore quattro anni fa è che il gaminolo è un fummerà cristiano, e si fa presa. A riferirla con sé, è che la scatuletta del seno che gli ha detto, è una credenza. Non, 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 non. Purtroppo, non, non. Purtroppo, non, non, non. E io, te avvio. E io, non. C'è prima a capire le conto, adesso capisco. E? Verbalo, no. Verbalo, no. Ma la mia, te avかca è il mito, eh. Quittino, guittino. Marci. 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 Marci, no. che è lì, le vostre fiori le miele tabacà e ciò preosso meno da quel ferro però lì che le comitinte mi ha raggiunto non è un'altra gente è in capanna, sentita spirito usato e che detto che mi pazzerete? spiritico l'assoluto spiritico l'assoluto spiritico che scattolo che scattolo signore perdona loro che non sanno quello che sono scattolo ma veramente il padre è dovuto dormarsi la piazza che sa fare non lo teranno a fare l'assoluto spiritoso perché il mio mio ciamato e ne può rompere per tu mandato per tu mandato? per tu mandato e ne ho riato in paradiso ma mia e cosa che succedì? che succedì che invece inoltre perché non ma non non Ma tu faresti o te lo chiedi? Perché ci lo perlacare? Perché? Mi credi che tu si metti la mancina? Non ti ferma la ciamata. Non ti ferma la ciamata. Non ti ferma la ciamata perché io che lì al gaffai che lo benedissù speciale che non andate a bandare lì? Che spigge dè? Esorcismo? E insomma... Ma... Che è che pensate? Al sorgismo? Che è che va a dar fino a giù e calmadino? E' vero? Bene, io che tu potessi dire a dire a mancina. Ma no! Va bene, va bene, va bene. Anche io bollare Piero e figli è che lo trasparcirà sul fulgamento e non la margieri per un lavoro di Dio maáticas. Piero! 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 nota che si riesce se sono indietro Perché il peace del sangue perchè il sangue è contento Si te richi senti sul naso Unimus, Deus quidabitus sacramentu pilabitus passionis tue, memoria unneliquisti, qui divise il legno di un secolo e secolo romame. Omnimus qui venistri e puntu nostrum per un'azione hominum pace fidei. Alla scuse il reverendo malvarde che vengo capì il nicoto che ha chiesto che ha chiesto da sore. Alla scuse il ruolo. Come teni capì nel croc. Altre che il fulmule che il fulmule scrivino in natino. Per me è verano, pure. Alla scusa la seconda elementare. Alla scusa il nome. Alla scusa il mistero. Eeeh, e mi chiesti andabene di cius speciale. Magari che lo urbi e torbi. A parte che orbo fosse sorogli. Uuuuh, carita beppu, dina! E' andata, e' andata! Ah, e' amocchi, e' amocchi. Come' e' amocchi? E' amm... E' amicchi, no? E' amicchi. E' andata! E' amici e' un bikini. E un protagonale. E' amici e' amici? E' amici e' amici e' amici e' amici. di sospensione di un parte. A salute, a salute! Ma no, vengo in idea. Che viene idea? Pino, se ne compaite che lo dottorosino ti vado neanche a cuore. Vengo in idea pura o cattia che la ave, però, però, a quel punto che... Ando, vengo in aro del mago. E lui mi dico, vengo chintasette della storia che mi c'è che vanno a sto caro, e lui mi dico che è con delle quattro parole magiche al mezzo posto lì. Per me che lì ha la fomibarte neanche il capo stascio. il capo, la paretta, e ti pulì! E anche un'altra idea che è malo, meglio. E veramente, adesso, le si precise. A loro ti deve essere a bocchino. Perché lui mi dico che le si chiudono, come il velo, no, è bene, è bene. Avanti, avanti. Si può? Certo. Mago Magchino sa tutto, conosce tutto, e ricorda tutto. Mago Magchino conosce il passato, conosce il presente, e conosce il futuro. Mago Mago è il detentore dell'unico, vero, infallibile oroscopo dell'umanità. ora, vi dirò il vostro futuro prossimo. State a sentire, che Mago Magchino, ora vi dice il vostro destino. Or, state allegra, povera gente, anche se oggi non avete niente. Vedo, vedo ricchezze, vedo milioni, in questa casa, nuovi ricconi. Vedo miliardi, vedo come manna, su questa povera gente, diventerete ricchi, sfondati, ben vestiti, e ingioiellati. Ora, il futuro, non sarà più nero, con le palanche del buon piede. E perché il vostro futuro, l'abbiate già in mano? Sì. Dovete comprare il magico talisman. Aspettate che prendo il talisman. Non abbiamo niente. 10 euro, prego. 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 Ma non è che? Invece, non è in tasso, se non è mai più buono, non è il 30 euro. Eh, perché c'è qualcosa come l'investimento, e neanche in credito, neanche la madre, non è il 30 euro. Sì, ma no, ma che intendi se è un po' là? non è quello. Tottore tanto, oh! Sì, ora, che me ne frega. avesse a bella si avvanta, voglio dire i miei 10 euro e andiamo avanti. I miei poteri esoterici fanno al di là dei mani, al di là delle terre emerse e sommerse, al di là delle nuvole, al di là delle stelle. Il problema lo conosco e pertanto voi uscite in modo che io abbia da sfogo i miei poteri magici e occulti. Andiamo, andate, andate, prendete anche la roba. Andi, quando la galle va ancora a disgraziare per brui, a vero che disgraziare si forrano per me. E nella lente del povero, come a me e me fai mai ormai. Andate un po' la resta, un'arrequina, gioca un benquino a parte, un muro che aveva è freddo. Faccio un po' di fumo, il classico fumo negli occhi. E se almeno assenta il profumo di casa. E ora amè, anima inquieta. Adesso che mi sono calmo e pacifico, ma spero che l'aveste che è un po' citato. Samartiri santi ed elzebù, fate che il fiero torni lassù. Spiriti folletti ed entità, fate che il fiero vada via di qua. Forse del fine, forse del male, fate che il fiero vada via di male. Sì. 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 E' perchè adesso non so, metto a bocchì. E' perchè adesso sono andò al cinema. Oh, signo. La cucinaia è sta volta. No. Vallo dì, vallo dì, mentre non viene che quando stai dentro la casa, punto e basta. Va bene. Oh, chi è? I morti! I morti! I morti! E' chiuscire! Chi è? I morti! Mi dite! Avanti! Vi di fondo! Ciao, Petti! Ciao, Grixio! Mmusica, come avanti! Voro marchi! Mi ha preso, he trovarci! Sì, va bene. Veniamo a colare la cucina di un'altra cosa, ma non ho visto bene. Ma non ho visto bene. Ma non ho visto bene. Scusi come se non ho visto il fumo. Ma non ho visto bene. Ma non ho visto bene. Ma non è vero. Non è che la rompivale. Scusami, mi chiedevi a dire ora Lucrezia ha un netto e mi ha morti. Pensa, pensa e mi ha bestruato a pagare le bande del cimitero. Pensa. E il resto di morti. Come minimo, ma la mia pupetta è mia a terra. E come la madre, dal colpo postolico. Scusami, la questa non potete rispondere. Non lo so. Non lo so. E me, non è il caso di te, non è il caso di te, non è il caso di te. E pari anche per i morti al paese. No, 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 no. Tanti volte, perché come ti sei mai? Le picche ne sto fin sull'a terra, no, no. Ma ho senso, niente a preghiera, niente a sposti. No. Lo so. Un carico parante, che è il caso di te. E mi fa dire almeno una spazio di me, se no. Dopoté, la pensa e mi ha portato a quello, che mi ha avuto bisogno. Ah? Allora, che mi ha avuto bisogno. Allora, che mi ha avuto bisogno? A me sa non parar. Ah, come vedi al marino? Ah, non fosse come faria, te lo, te lo, te lo soio, il joke è da dormire. Ah, su e Barton, Christian. E mi pensi su una casa di più con lei, perché pensi con l'animo, l'ho disgraciato, non mi fiero, eh? E mi sono a po' i seguiti, non mi sembra anche un po' di più, non mi sembrava, 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 non mi sembrava. Ma tu, come hai qua qui, che era via con papà, per tu, ma te? Tu cresci, tu cresci. Ma te, a coprire il mio collo in grifo. Ti hanno potuto fare il collo in grifo? E te te mette. Tu puoi ti curare! L'animo, guarda, mi chiedeva la tua cosa! Ma in te vedrai il collo in grifo e lo pei appena la dimmietta. e si qui la porta il marco stere hela la vista du prancio te la heti mano come on, 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 come on. ma a fannyenne, mi vieni la heti mano la riqueza stelle e mi chiedo buoni io già puoi scegli finire neanche il tarapanno ah tu non mi... te l'ho dite prima io cagare la mia compater qui per questa sola è pronta compater da compater ma per la mia compateria fa di proprio i d'utile d'utile? d'utile? che è tira tardi che è la sua luce che è la mia luce che è la mia luce che è la mia compaglia di me e pensare che mi ha volto poi fisse la sua trompa e anche a dire che è un pinto che è ancora che è la mia cella che è la mia e sono le mie che è la mia compaglia di me e non 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 Teresa non mi chiedo non mi chiedo perché mi vuole la sia venta non mi chiedo 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 facciamo più la schiavetta con... cos'è? a più, più preciso la facciamo la diambetta va bene, va bene cercate il figlio, ditevi con no freggete della schiavetta e della diambetta dai basta, basta, basta basta gin gin Teresa è il basso super su me a farlo soldi la mettiamo un gol dai e il Pinotolo è la Francia colpa a te perchè cosa è pensare che il Tadasky Melciani è Pinotolo è già noto il Pinotolo è il Pinotolo del Torghese e se c'è la propria gulpinotto della Francia colpa la mettiamo un gol toma un pinotolo hai pensato che dappunti puoi fiù sulla sua tombola oh Dio che già merita merita Dio no, no, no ma se e perchè la ti sfida se dovrai mettere il mio il fiù sulla tombola no puoi direlo se dovrai mettere il plastica e ti dici che è il ritegno per il mio spendere e che è il mio cambiare tutte le settimane e te vai mettere il mio e te vai mettere il mio e ti sceglie il mio e te vai mettere 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 il mio che dappunti dove fa sfrirà dei gommi dai bisic allora e si che la parte pensa a chi è Lucrezia che la parte pensa a Lucrezia che la vai fa più di un raso una sola chiede e se lui mi dice là che avevo fatto almeno un'opera d'arte penso che non è ancora neanche nato al cimitero perché mi chiedo che l'originale è stato purizzato ma come, vabbè sai, più da me andiamo a poco questo, questo almeno è una ero, ma se che non mi dicano che scatulino la gente, no? che non mi ha già fatto scatulino per la scatulino del teo non mi ha messo il salato Teresa, è tempo che non è anche il suo padre perché? perché sono il generale che tu? quello mi ha più più sprufati a te ma perché? ma che buono che tu mi fai e quanto è originale ora non c'è niente al cimitero penso che prima di me si fa promettere di mettere nella casa un cellulare un cellulare, eh? fa qualche dei gravigliere ma no, ma no che il cellulare è lì pensate che la sento ma chi lo fonde la scatulino cin 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 la fanno i telefonali e la vanno i massaggi e perché? ah e perché... ha il telefonino vede che le hanno venduto la casa? Per via del che la morte, che la morte trasparente. Arracciamola, mi è trasparente. Arracciamola, la morte scomparente, mi è trasparente. La morte vale l'altro. Quanto? Lui, se per caso sarebbe sena, dopo che male lo sopra, Lui, che riesco di telefonare, che lì, che lì non morì, e che me, che ne so trasparente. Ho capito? Lui, non ti tocca un po' l'abbonamento della telecom? No, ti tocca rimando, eh? Eh? Telecom, telecom, la talenco il son c'è basta, però... Non è che io non ho capito. No, no, no. Voi comprare la tessera, che si chiede uno, e la loro metti da vedere. Eh? 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 Be', eh? Se fa a me, di vendor a casa, la tessera e il cellulare. Eh? 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 Pod essere a posto con la markers, come ti tena la casa, la tessera e il cellulare. Eh? Ma voi non cresceva il gioco, ma qua che devo confermare l'uomo, sa che qua che c'è da dire? Ma a me nel telefono di Teresa, con il mio vecchio la batteria... Ma sa mai che lui che lei, originale come lei, e il tiro deve sedare del buco e fanno disperare a me. E me? Yeah! Non cresce! C'è un gioco. 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 Poi, sì. Penso. Perché è un gioco in una bicicletta per l'anno sterile. E mi chiedo, non è vita o no. Perché è un gioco. 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 Ah no? E già le loro vado. E? 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 Ma è per far fare un mitogramma. Fatto? Fatto al grano. Penso, che quando uno è indio a mangiare i neri, un uovo, più sono le fiori a piance. A piance. Perché è il visio. Che se amici deve mangiare, ma ha mettito sotto il ghiul che è una gioco. Sai? Una fiorcia. È una fiorcia. E' una fiorcia. Che? Che capite a rino come le ero fatte al mettiero. Eh, ho capito. Però lui cresce da più di e poi. Come le era fatto a prendere sposarle. E mi ero così da prima. Certo. Certo che più di e niente. E? Quasi quando da se sguerre, l'amor, l'amor, la macerato e due. Perché è molto caldo. Ah, che. 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 perché è per la mia mamma delle delquil penso che con mangi di campasi questo paciente fa tutte le scuse foto penso penso che proprio che lo siano che il mio bubà e la mia mamma il mio bubino è una cosa con gli amici e che le dì che la resta per il suo testo e potrà perdere quanto credo che ne resta giù chiamato il mio noco e per insegnare che le dì che capite in tutta la finestra una moneta di 100 lire me la moneta l'ho guettata solo ma lui le manisce le manisce le manisce e poi che fa? foto l'ho spettata un po' e poi una dottor poi una dottor che è per te Teresa mi dice che te l'ho in camera e io le sentivo delle ricambe e io le ho spettato qui e allora dopo che le dici la sera dopo e le dite a morire e io le dì come mai nello mio nessun e io le ho rispondi e poi a te che le rosa stò tutta la sera cercando di essere petta e mi sento francamente e mi e vete a e sé e io le spesso e invece degli altri e tu hai quello che ho fatto di essere ma tu hai qualcosa di più che ti ho fatto di essere allora pensa Teresa che è una moneta è un mio rino è il mio rino è lo mio è lo mio ma è che si sento è che si sento un disgraziato è il mio rino che si so sotto il pietro si sotto il pietro oh Grazie a tutti. 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 a tutti.